Allora a quella riunione c'era il Vescovo, perché avevano chiamato il Vescovo, il comandante dei tedeschi, della piazza di Savora e dei tedeschi e in più c'era Ronzello che era rappresentante del Comitato di Liberazione Nazionale, in più c'ero io come ufficiale delle operazioni di collegamento e Frumento che era il proprietario, ma lui era il politico, era la vigilia della sera del 25, cioè il 23, il 24. Allora quando siamo lì, grande discussione, non la sera, la mattina del 24, la sera prima, a 24 grande discussione perché i tedeschi volevano uscire dalla città con l'onore delle armi, eh no, gli diceva Ronzello, è troppo facile, volete l'onore delle armi, quello che avete fatto volete perché era la colonna tedesca, veniva da tutto il ponente, dal Bengals, erano tutti incolonati in corso ricci, eh, stavano passando, allora dice no, no, voi lasciate le armi e ve ne andate come siete e loro, puoi capire, i tedeschi si emulavano, loro si sentivano sicuri dalla forza che avevano, va bene, gli ha detto, Ronzello gli ha detto, va bene, voi volete così e va bene, vi prendete quello che succede, arrivederci e voi due andate a dire piano B, noi siamo partiti a piedi, abbiamo passato al corso Ricci, c'erano i tedeschi che attraversavano, che andavano su, ci siamo inferati, di là c'erano ancora gli orti dove c'è via il mondo dei amici, c'erano ancora gli orti, non c'erano, le case erano tutte spostate di qua e in fondo c'era la famosa Crosa Lunga dove, dove Pelufo c'era anche la marcia, ha lasciato la pelle, in fondo alla Crosa Lunga c'era l'officina, un'officina meccanica, quella come si chiama, facevano materiale, avevano lastre da carpentaggio, ecco, e lì c'era il comando, c'era il comando perché Mistrangelo, quello che il suo figlio era allenatore qua, o giocatore, sì, allenatore dell'allenante, lui era il commissario politico del comitato, del comando, perché il comandante della zona era Carruzzo poi diventato, allora io lì siamo andati a dirgli piano B, loro erano lì dentro, lui faceva il disegnatore, quell'altro facevano, il comando era tutto lì in questa officina metallica, no? E allora loro piano B, piano B, piano B, cosa è successo? Il piano B voleva dire attaccare, e infatti le sappe sono entrate in azione e hanno cominciato, i tedeschi la sua hanno trovato, perché già le formazioni di montagna erano già tutte in giro qui sulle coline, erano pronte a intervenire se le cose non andavano come andavano, e allora infatti i tedeschi li hanno attaccati lì dopo la Vagnola, oltre la, quando si superca di buona, insomma la prima corva, la nostra sappe le ha attaccate, infatti ci sono stati due o tre morti, poi le formazioni via via che andavano le hanno attaccate, e noi invece le sappe nostre sono entrate in città e hanno liberato la città, capito come era la storia? Però tutto questo lavorio non è che è fatto dall'oggio al domani, però questa è stata la fase conclusiva della liberazione, perché la città è stata liberata dalle sappe, quando sono arrivati gli americani hanno detto ma come siete già liberati? Eh sì, come Genova, Genova è stata liberata dalle sappe, nella stessa identica maniera, e noi ci abbiamo lasciato dei morti perché poi questi qua lì e qualche d'uno in giro mi sembra, perché poi c'è stato il fatto del sminamento del porto che è stata una cosa non indifferente, perché il come si chiama il comandante tedesco, lui voleva farlo saltare, l'ha beccato, ha detto adesso dove sono le mine? Poi chiaramente abbiamo poi riorganizzato la città e l'ha detto tante cose che le più importanti, che non erano più mai le altre piccole, perché ognuno ha preso gli andati i compiti che dovevano avere, io ho continuato solo alla parte militare perché sono diventato comandante della piazza di Savona, poi è diventato prefetto uno del comitato che era repubblicano Eurozone.